il mio compito buongiorno a tutti è quello di aprire e portare i saluti del presidente questa riunione che è illustrativa di quello che rappresentano per noi l'accesso al servizio civile universale e l'occasione che abbiamo. Il 10 febbraio scade la data di presentazione delle domande dei ragazzi che accederanno al servizio civile universale per questi bandi di questo 2022. Noi abbiamo vinto due posizioni, correggetemi se sbaglio, per un totale di 50 elementi che entreranno nella nostra squadra e forniranno per 12 mesi questo servizio. Noi già siamo dentro un progetto che comunque ci ha dato soddisfazione, i ragazzi che stanno lavorando con noi hanno fatto tante cose, tante cose importanti, sono stati d'aiuto sia a livello centrale che a livello periferico con punti di maggiore eccellenza, punti più problematici, ma questo capita sempre nella società umana quando si mette insieme un gruppo di persone così numeroso che qualche cosa funzioni meglio e qualche cosa funzioni meglio. Però diciamo che quest'anno abbiamo anche scontato un anno di avvio, di carburazione della nostra realtà e di integrazione con queste forze che sono forze temporanee dal punto di vista nominativo, perché sostanzialmente ogni 12 mesi cambiano, ma sono permanenti dal punto di vista della continuità che abbiamo già garantito quest'anno e possiamo garantire per gli anni successivi. Quindi è molto importante che noi si faccia lo sforzo di pubblicizzare in questi 15 giorni che mancano alla fine della scadenza del bando, di pubblicizzare questa opportunità che è un'opportunità sicuramente per noi, ma sicuramente per tanti ragazzi in un momento difficile del Paese. È chiaro che se attendiamo che la cosa si risolva da solo, cioè che la gente vada sul sito che trovi, che all'interno di questa cosa selezioni le bocce, è evidente che rischiamo, come è avvenuto in passato, di non coprire tutti i posti. Se ci mettiamo tanto del nostro per pubblicizzare questa opportunità, per individuare le persone, per spronare le persone a partecipare, è evidente che possiamo fare molto e coprire tutte queste posizioni. Questi due bandi sono molto più centrati tra l'altro sull'attività nostra, sono cose che possiamo fare tranquillamente, quindi io nel salutarvi, perché poi vi lascio insomma a una sessione di lavoro, vi dico anche, ripeto, che noi ci attendiamo che un po' tutti i territori si attivino. L'anno scorso abbiamo avuto delle situazioni, delle province, anche grandi, che non attivandosi non hanno garantito la copertura dei posti. Ed è un peccato, è uno spreco, è una perdita d'occasione. Non abbiamo dato l'opportunità a qualche ragazzo di confrontarsi col mondo del lavoro, col mondo un po' diverso da quello della scuola, della famiglia, eccetera, dove si comincia a fare esperienze e cose, che è proprio insito di quello che può rappresentare il servizio civile universale. Quindi io vedo che siete parecchi, perché già vedo una trentina di ingressi dentro questa riunione. Se facciamo tutti un pezzettino del nostro lavoro, siamo sicuramente in grado di fare un ottimo lavoro. Quindi buona giornata, grazie, e io lascerei a Daniele, credo che illustrerà l'opportunità e il servizio civile. Grazie al segretario generale per la preziosa introduzione. Io sono Daniele Taurino, insieme al mio collega, anche lui connesso, Daniele Quilli, stiamo accompagnando l'ufficio del servizio civile della FIB, in questa programmazione del servizio civile universale. Io dirò solo poche parole di introduzione, lasciando poi la parte tecnica al mio collega. Sono parole di cornice. Come diceva il segretario generale, è importante capire la cornice, cioè dove siamo messi per poter fare ognuno la propria parte, perché non si chiede a ognuno uno sforzo immane. Ognuno di voi, insomma, nella propria sede dovrà cercare di trovare due, massimo tre candidature, quindi sono obiettivi realizzabili, ma per cui c'è bisogno comunque di uno sforzo territoriale. Noi oggi vi faremo vedere anche gli strumenti che l'ufficio nazionale ha messo per voi a disposizione, strumenti grafici di informazione, di facilitazione. Però è chiaro che poi questi vanno articolati a livello territoriale, va fatto il passaparola che è fondamentale. Non abbiate, ecco per questo dico anche paura del poco tempo a disposizione. Fino ad adesso, in generale, diciamo, nella rilevazione nazionale, i giovani hanno fatto pochissime domande, ovviamente prima nelle cere sono state le vacanze, poi hanno iniziato a capire che è iniziato il nuovo anno, e proprio da oggi inizia, diciamo, la corsa finale, iniziano ad arrivare le domande, fino al dieci mattina. Quindi bisogna avere chiaro che è un po' un impegno importante di queste due settimane per arrivare a coprire le posizioni. Allora, da qualche anno con la riforma del Servizio Civile Universale, i progetti degli enti accreditati, degli enti titolari come la FIB, non sono più da soli, ma vengono messi in una cornice, che si chiamano programmi di Servizio Civile Universale, e il programma che abbiamo pensato proprio con il Segretario generale, e Antonella, e la nascosta Stefania, è quello di mettere le attività ordinarie già della FIB, articolarle come opportunità per i giovani, quindi anche con l'ottica del dialogo intergenerazionale, e mettere all'interno di una cornice che è davvero importante per il Dipartimento delle Politiche Giovanile, che è l'ente, che emana i più oggetti programmi Servizio Civile Universale, cioè quello dell'Agenda 2030, dello sviluppo sostenibile. Quindi il programma si chiama SOS Sport Obiettivo Sostenibile, e si articola poi, come vedremo meglio, in due progetti in cui uno è più indirizzato a un'assistenza delle fasce fragili della popolazione, e l'altro invece proprio a promuovere la partecipazione attiva, sempre ovviamente in un'ottica di inclusione, chiaramente che lo sport già di per sé, come sapete meglio di me, garantisce della partecipazione e il protagonismo attivo dei giovani. Per fare i programmi non si è mai soli, quindi la FIB quest'anno è capofila, cioè quindi coordina questo programma insieme a un altro ente, che farà delle attività specifiche di assistenza solamente nel territorio di Verona, che si chiama Istituto Don Calabria, e nel progetto, insieme a altro e lo sport, uno dei due progetti della FIB, c'è anche la collaborazione di un altro ente, che si chiama Endo Fabba Donorione, che farà delle attività specifiche nell'area di Mestre Venezia. Quindi vedete, i giovani avranno anche l'opportunità, appunto, durante l'anno non solo di stare ovviamente nella sede di appartenenza per le 25 ore a settimana, per le attività che vedremo meglio dopo, ma anche avere questa opportunità, che già accennava il segretario generale, di fare un'esperienza diversa da quelle fatte finora, cioè diversa da quella un po' chiusa nelle bolle protette della scuola o della famiglia, ma avversi un po' a quello che è il mondo, la società italiana, ed essere un po' l'esperienza all'anno di servizio civile, il ponte anche per le scelte future, grazie a una formazione che la FIB metterà in campo, una formazione generale di 42 ore, una formazione specifica di 72 ore che darà davvero gli strumenti di competenze, di occupabilità, di voglia di mettersi in campo come cittadini attivi ai giovani e alle giovani che riusciremo ad appassionare. Però il passo preliminare è avere le candidature. E quindi oggi un po' l'obiettivo di questo webinar che viene registrato, quindi siamo registrati e che così sarà anche a disposizione per le sedi territoriali, è quello di capire cosa dire ai giovani, come fare la domanda e risolvere tutti i dubbi che potete avere rispetto a questa parte tecnica. Quindi do la parola allora ringraziandovi al mio collega Daniele Turli. Grazie Daniele e buongiorno a tutti e tutte. Un po' come hanno già accennato chi mi è venuto prima e ovviamente il primo punto che voglio mettere sulla Gen è che se avete nel mentre che esponiamo non solo il programma, i progetti, le attività, il come fare domande e quant'altro, se avete dubbi, domande, perplessità, qualsiasi cosa, sentitevi più che liberi e libere di interromperci, di chiedere insomma perché parte di questo tutto diciamo gira attorno al fatto che si comprenda bene sia capillarmente diffusa anche questa tipologia di conoscenza e che effettivamente sia possibile poi per voi avere gli strumenti e le possibilità di una efficace comunicazione, come dicevamo prima, soprattutto sul territorio. Faccio un primo escursus non solo del programma ma anche di quella che poi è la storia stessa del servizio civile affinché rimangano diciamo radicate disponibili anche dopo. Questo perché? Perché come hanno già spiegato e soprattutto ha fatto l'accenno anche Daniele, il servizio civile in questa sezione, in questo momento è universale e vediamo qui non solo sulla graduatoria ma anche quello che è il non solo il punteggio, la parte di iscrizione, quindi tutto quello che è un programma nazionale. Quando si definisce un programma nazionale nel caso specifico del dipartimento è perché effettivamente è quello che agisce su un ambito interregionale. Come potete vedere brevemente da qui le regioni sono tante, a gran sorpresa voi sarete in collegamento anche da quelle e ha come legame e quindi come link attivo all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile l'obiettivo quattro è quello di fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva, un'opportunità di apprendimento per tutti e l'obiettivo 10 con la specifica idea di ridurre l'ineguaglianza e quindi abbassare le disuguaglianze all'interno di e fra le nazioni, in questo caso non solo all'interno della stessa Nazione Italia ma anche nelle stesse regioni insomma che la compongono. L'ambito di azione un po' perché l'attività del servizio civile deve essere parte diciamo complanare alle vostre attività che normalmente fate è quella della diffusione della cultura dello sport e la promozione dell'attività motore al fine di migliorare la vita delle persone favorendone l'integrazione sociale. Siamo partiti un po' da quelle che è stata una rilevazione dei bisogni e gli aspetti da innovare anche da quelle che sono stati diciamo i feedback ricevuti regionalmente localmente su quelle che potevano essere le sfide e le necessità da dover cambiare e implementare e non solo diciamo risolvono diciamo vanno a coprire della parte diciamo di informazione di educazione e anche di apprendimento ma anche la parte soprattutto di diffusione perché perché effettivamente grande parte della gestione del programma stesso è non solo sul fare le attività ma a far sì che come dicevamo prima si crei questa rete di giovani intergenerazionale che parlino diciamo tra di loro e che permettano anche un ricircolo e un ricambio quasi naturale tra anno ed anno soprattutto per le nuove generazioni. Qui brevemente abbiamo inserito alcune delle delle sedi diciamo che si possono vedere nonché la ripartizione diciamo del programma sugli obiettivi specifici ovviamente ogni target dell'agenda 2030 ha i suoi obiettivi specifici e ovviamente un altro aspetto importante che siamo andati a toccare anche il target 5 soprattutto nell'ottica del 5.1 quindi il diciamo combattere quelli che sono non solo gli stereotipi di genere ma anche abbattere quelle che sono le disuguaglianze di questo da questo punto di vista come un approccio di genere trasversale al raggiungimento degli obiettivi perché perché abbiamo visto in fase di compilazione del programma e anche su rilevazione diciamo istat nazionali anche europee che nonostante diciamo siamo entrati a pieno regime nel 2023 questa divisione di genere come quasi su tutto anche nello sport è ben presente. Il programma come dicevo interverrà a livello nazionale qui c'è un elenco omnicomprensivo insomma non solo delle regioni ma anche delle sedi e la cosa principale che andiamo a spiegare a mettere in campo è l'integrazione socio-culturale che lo sport permette quindi utilizzare il canale sportivo soprattutto per coloro che si trovano in condizioni svantaggiate di discriminazioni o magari che vengono da contesti socio-economici non particolarmente favorevoli quella integrazione che non deve essere solo all'interno della squadra di calcio ma come ad esempio l'interno della squadra di calcio all'interno della stessa squadra diventi in realtà uno degli strumenti più efficaci in realtà per potersi integrare realmente e non è diciamo a caso che questo valore dello sport come strumento di integrazione sia stato riconosciuto prima dall'UNESCO poi dall'ONU e anche recentemente dagli stessi dipartimenti e ministeri italiani insomma questo perché perché lo sport è sicuramente un settore privilegiato per quanto riguarda la lotta ai discorsi d'odio alle discriminazioni di qualsiasi genere e offre di per sé uno spazio sicuro comunque tutelato questo perché perché effettivamente come ha già sottolineato anche il segretario generale nel senso attualmente non è più possibile dividere lo sport dalle questioni sociali non solo per quella che è la pressione che si può ricevere guardando da questo punto di vista dai media o comunque da altri strumenti di diffusione ma molto semplicemente perché si mette in mezzo e quindi diventa un punto focale tra la salute l'inclusione e quelle che possono essere inoltre anche le migliorie e il favorire uno sviluppo sano della persona ovviamente in questo caso sviluppo sano si intende un omnicomprensivo un 360 gradi non solo quella che è la parte diciamo prettamente fisica e ricordava bene il segretario generale nel senso perché il programma nazionale comprende la possibilità per 50 giovani diciamo distesi in tutto il territorio nazionale di poter fare questi 12 mesi di servizio divisi in questi due progetti primo progetto insieme all'altro lo sport e l'altro invece che è FIB per i più fragili uno ha il focus prettamente educativo e l'altro invece ha il focus sulla parte diciamo soprattutto di inclusione quindi hanno due obiettivi specifici che si riuniscono all'interno del programma come tipologia di ambiente di servizio in questo caso partiamo un po' da una breve storia del servizio civile da quando è nato come è diventato e fino adesso che è diventato nazionale qui vado un po' più veloce in maniera che non ci soffermiamo troppo su questa parte diciamo prettamente accademica partiamo dalla legge marcola nel senso quindi con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare l'istituzione del servizio civile sostitutivo nel 72 alcune piccole prime riforme ci permettono insomma di avanzare all'interno di questo spettro storico e fino a passare dal dal fatto di essere obbligatorio a diventare eh a propria scelta nel senso quindi a gratuitità con eh i principi fondamentali essere la solidarietà la democrazia la democrazia partecipata e la cittadinanza attiva eh questo perché perché è presente il doppio legame con la difesa della patria eh in questo caso abbiamo scritto del paese eh perché perché partendo dall'articolo undici e cinquantadue giustamente si fa sempre riconoscimento del sacro dovere del cittadino di 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 difendere la propria patria ma non viene scritto con quali mezzi e soprattutto è del cittadino in questo caso si è fatta pressione sul fatto che non è sul militare o comunque sul soldato eh perché perché ovviamente si va a cambiare a costituire non solo quella che è la nuova generazione di servizio civilisti o comunque di operatori ma anche con le proprie azioni e quindi con ciò che i programmi e i progetti permettono eh si vanno a cambiare quelle che sono le realtà eh diciamo sociali nei quali i progetti si si attivano l'avere o non avere in linea generale progetti attivi di servizio civile all'interno di una comunità fa grande differenza perché perché le azioni che si fanno tutti i giorni tutto l'anno per tanti anni cambiano particolarmente quello che è la percezione e le realtà che ci girano attorno eh su questo si può vedere da tantissimi aspetti il fatto che se ci c'è o meno un centro di aggregazione giovanile ad esempio cambia anche la percezione dei giovani e come i giovani poi si relazionano con le persone o comunque con le istituzioni attorno cos'è quindi il servizio civile nel senso così come lo intende il dipartimento nel senso per i giovani è la possibilità di dedicare questo anno che si può fare una volta sola nella vita eh a favore di un impegno di solidarietà inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi proprio un valore come ricerca della pace invece per gli enti come in questo caso per la federazione della boccia è la possibilità di avvalersi di personale giovane motivato che deve essere stimolato proprio dalla possibilità di vivere questa esperienza qualificante e diversa eh assicurandogli nei dodici mesi comunque un servizio efficace perché se ti dovesse interrompere diciamo magari un servizio di sportello di informazione o magari che ne so servizio di seramenti faccio un esempio pratico a metà anno sicuramente si creerebbe un po' di disagio per dirla tranquilla insomma all'interno della propria della propria sedia o del proprio centro come dicevo eh qui c'è il perché e il per come insomma si raggiunge questa tipologia di eh di legge eh brevemente diciamo li ho già li ho già esposti quindi salvo salto un attimo e invece adesso iniziano a diventare sempre più pressanti anche le salvaguardie le tutelle del patrimonio della nazione soprattutto con i settori ambientali e si può vedere come ad esempio già eh stato previsto servizio civile ambientale e nonché anche una parte di servizio civile invece digitale che è quello che attualmente eh già la federazione sta avendo con i già presenti servizi eh ma anche una parte di formazione civica socio-culturale nonché professionale perché nonostante il servizio civile non sia a pieno titolo un lavoro la finalità dello stesso è quello di preparare effettivamente le persone che ne fanno parte comunque che svolgono questa attività verso il mondo del lavoro su questo eh particolare attenzione abbiamo posto sulla stesura del programma dei progetti perché perché non solo i partecipanti avranno il riconoscimento di alcune tipologie di competenze quindi spendibili all'interno del proprio curriculum ma ci sarà una parte propria di accompagnamento che si chiama tutoraggio all'interno de eh delle caselle che saranno un totale di 25 ore che i volontari alla fine del loro percorso tra il decimo e il dodicesimo mese avranno di accompagnamento fatto da un'azienda esterna che permette loro di avere una reale eh diciamo un tocco reale quindi una vicinanza eh per un bel po' di ore sul come perché magari modificare il proprio curriculum vedere quelle che sono le competenze da mettere o comunque andare a cercare quelle che possono essere le informazioni eh più utili qui abbiamo fatto una piccola descrizione tra lo stato e gli enti su per quanto riguarda la programmazione la pianificazione e l'individuazione degli standard eh in questo caso ne vado un po' a saltare perché effettivamente eh diciamo non è che ci aiutano particolarmente oggi però mh queste poi rimangono sempre a voi nel senso eh per eventuali altre domande o comunque eh voglia di approfondimento rimangono sempre disponibili e come dicevamo e come si è detto invece il servizio civile concepisce l'accreditamento per grandi agglomerati di enti nel senso in questo caso per voi è uno solo nel senso solo che ha una caduta e una capacità di mettere a terra le informazioni le attività e quindi anche tutta la parte di diffusione di promozione degli stessi eh nella modalità di avere un singolo ente che si impegna in quest'azione collettiva e come diceva anche il mio collega Daniele da un po' di anni a questa parte queste azioni non si possono più fare eh da soli perché perché effettivamente eh lavorare di squadra lavorare insieme è sempre mh porta sempre dei risultati migliori da questo punto di vista. Qui abbiamo un po' quelle che sono le diciamo le informative se così vogliamo dire sui referenti istituzionali nel senso quindi c'è tutta la parte di ufficio nazionale per il servizio civile che vede giustamente impegnati di tutti quelle che sono delle direttive nonché eh gli albi nei quali ci si scrive il monitoraggio e i vari controlli e le regioni e le province autonome hanno ovviamente dei processi o comunque degli accreditamenti differenti però in questo caso non non è così diciamo rilevante perché comunque già tutti gli enti sono iscritti questa è nell'eventualità che si voglia iscrivere o comunque far partecipare nuove sedi nuovi enti in un diciamo in un'auspicata apertura di di altre sedi regionali e eh su chi in questo caso può svolgere il servizio civile facciamo una breve distinzione nel senso che eh in questo caso la il piano il programma di intervento è eh italiano nel senso che eh il servizio civile prevede ovviamente che ci siano anche programmi che si svolgono all'estero non per tutto magari per un pezzo invece in questo caso quello della federazione italiana bocce siccome come abbiamo detto deve portare le attività che normalmente si fanno all'interno dei centri come attività eh per i servizi civilisti e quindi un sostegno e un supporto reale abbiamo deciso di farlo solamente sulla parte italiana chi può fare domanda ovviamente sono tutti cittadini italiani europei stranieri regolarmente iscritti che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano superato il ventinovesimo eh questo vuol dire che ad esempio come è stato per eh per alcuni nostri casi e se la persona che ha la domanda non ha ancora compiuto gli anni può tranquillamente farla anche al ventinovesimo un esempio sono io che ho il compleanno l'undici febbraio io faccio la domanda il nove vado ancora bene nel senso perché perché non ho ancora compiuto i trent'anni e questo può essere utile nel caso magari ci sono persone indecise o non hanno questa tipologia di informazione chiara eh sicuramente è vi dico uno strumento ma è saperlo sicuramente eh aiuta eh per quanto riguarda alcune tipologie di gestione del servizio civile o comunque la corretta realizzazione dei progetti eh non solo sul vostro sito comunque eh tramite le informative sono presenti quelle che sono le schede diciamo essenziali o le schede informative dello stesso che vanno a spiegare anche quelle che sono le attività dopo le vediamo brevemente insieme così eh se vi fanno domande o se avete modo diciamo di eh colloquiare con chi fa queste domande di servizio civile avete anche gli strumenti per poter rispondere alle loro alle loro domande all'interno eh del sistema diciamo del servizio civile come dicevamo la parte di formazione svolge un impegno eh rilevante perché perché non si va solo a fare l'attività all'interno dei centri ma agli operatori che ne partecipano si fornisce attivamente una formazione divisa in generale è quella che viene gestita diciamo in questo caso centralmente dall'ente stesso e poi quella specifica invece che ha differenti eh gestioni o comunque differenti moduli formativi in base ai due differenti progetti eh su questo parte ovviamente già è stata scritta già è stata programmata e sempre presente sulla scheda che poi vi facciamo vedere qui brevemente quelle che sono le aree di intervento eh come abbiamo visto nel nostro caso andiamo a prendere proprio l e alla fine gli abbiamo lasciato quelle che possono essere due riferimenti utili il primo che è proprio il sito sul quale si possono trovare non solo le informazioni ma anche fare domanda invece diciamo quello proprio della fede del bocce dove ci sono entrambe queste tipologie di di informazioni e non volendo a tirare diciamo proprio per per le lunghe eh su questa parte diciamo di spiegazione generale del servizio civile eh ci premieva un po' raccontarvelo o comunque spiegarvelo perché perché effettivamente il come viene proposto o comunque come viene eh indirizzato anche ai giovani che magari fanno le domande stesse è un elemento importante perché perché magari alcune volte capita che viene eh un giovane che ha l'idea che possa essere effettivamente un lavoro che magari non può fare altre attività nel mentre eh ma se studio come funziona quindi su questo un po' la le prime specifiche le prime eh diciamo differenze servono a capire anche come rispondere a queste tipologie di di domande e mh vi farei vedere brevemente nel senso non solo quelle che possono essere i diciamo le varie attività che vanno a svolgere i volontari nei due progetti ma in realtà la cosa più vicina nel senso sulla quale eh partirei è in realtà il come il volontario non solo magari viene a vostra conoscenza comunque vi eh vi chiede informazioni ma poi come magari guidarlo effettivamente nella domanda su questo faccio un po' una domanda aperta a voi così eh non parlo solo io eh se vi è mai capitato comunque se vi è capitato di accompagnare o comunque di gestire una domanda di servizio civile diciamo dalla A alla Z quindi magari accompagnando la persona eh vedendo insieme il sito facendo la domanda o se avete avuto magari problemi o intoppi nel mentre anche no va bene come risposta eh però che qualcuno risponde no ma è capitato ok ok no per quello che penso se non è capitato a nessuno nel senso allora a maggior ragione lo vediamo insieme attraverso una diciamo alla fine sono una decina di di slide molto veloci eh perché perché magari anche voi avendone contezza e sapendo come guidarli e dove guidarli eh risolvete magari alcune delle domande che vi potrebbero che vi potrebbero fare eh come dicevo prima nel senso per qualsiasi dubbio o altro non vi non vi fate problemi a a ad interrompermi a chiederlo insomma e ok allora molto semplicemente qui vediamo non solo i due istituti che già il mio collega ha vi ha raccontato ma quella che proprio è la parte di domanda quindi come si fa dove si fa e quant'altro e dove per nostra fortuna il dipartimento c'ha un sito solo diciamo da scelgo il servizio civile è un po' più facile eh perché perché vi fa scegliere non solo il progetto vi fa segnare anche il il codice e quindi da lì si può andare diciamo un po' più eh spediti piuttosto che magari vedere tutto il piano nazionale andarsela a cercare su tutto su tutta Italia anche perché sono tantissimi e quindi risulterebbe una bella una bella sfida eh perché perché effettivamente come vedete nel senso ce ne sono tantissime di di richieste di operatori nel senso e se almeno non hanno la piccola idea di dove andare farlo insieme e quant'altro molto probabilmente nel senso se eh il giovane viene abbandonato a se stesso alla sua buona volontà di di iscriversi o comunque di farla e al primo diciamo errore o comunque alla prima perplessità magari risulta un po' più problematico. Un elemento importante ed è per questo che come dicevano eh diceva anche il mio collega eh la parte del passaparolo o comunque dell'impegno territoriale eh è rilevante è perché perché quest'anno all'interno dei due progetti eh ci sono alcune sedi o comunque alcune poste dove alcuni posti eh dove effettivamente i giovani con minori opportunità che all'interno della scheda si chiamano i GMO eh quindi tutti coloro che hanno difficoltà di natura diversa hanno dei posti riservati ovvero che molto semplicemente se fanno cioè se la sede ha un posto fanno domande in due e uno dei due ragazzi è magari a basso reddito eh si prenderà il ragazzo con il basso reddito che è la tipologia diciamo quindi le difficoltà economiche eh scelta per facilitare o comunque per diventare non solo più inclusivi ma anche per avere quella tipologia di eh spinta in più sul quale si può ingaggiare un un giovane o comunque una persona che vuole entrare a far parte di questo mondo eh qui le tempistiche del bando a parte la scadenza che eh come abbiamo già ripetuto al 10 febbraio nel senso le selezioni e le gradatorie saranno gestiti eh mano a mano da tutte da tutte le sedi eh per il momento l'informativa è entro il quindici maggio nel senso che è il termine ultimo e sull'avvio diciamo dei dei progetti ovviamente si è scritto entro il ventuno settembre perché perché non tutti i progetti o comunque non tutti i programmi partono assieme eh diciamo di tutta Italia nel vostro caso invece si parte tutti insieme eh perché la parte di formazione anche la parte di gestione è molto più facile se si va tutti insieme diciamo molto semplicemente quindi quello andate sicuri non non succederà e qui abbiamo un dettaglio un po' più definito di chi può di chi può partecipare nel senso perché rispetto alla prima descrizione non solo andiamo ad includere coloro che non hanno riportata non hanno riportato condanna in questo caso anche non definitiva eh per reclusioni diciamo superiori o pari ad un anno eh ma anche magari coloro che hanno già fatto un primo percorso e quindi poi hanno interrotto il servizio civile che come dicevo prima si può fare solo una volta sola eh coloro che invece già già hanno diciamo dei contratti o comunque delle collaborazioni attive con l'ente cioè nel senso che quindi una persona che già diciamo lavora collabora con la federazione non si può ripresentare nel senso per farle il servizio civile all'interno della stessa e o comunque coloro che appartengono a corpi militari o a forze di polizia questo non tanto per un motivo diciamo di di valore escludente ma perché essendo considerata la stessa cosa è come se stessero facendo la diciamo la richiesta per la stessa identica cosa prendendo un compenso differente dall'altra parte e la piattaforma è sempre la sola è sempre unica e la cosa fondamentale nel senso che è necessario che il il servizio civilista abbia è l'identità digitale tramite tramite lo speed eh può averla di qualsiasi fornitore il sistema li accetta tutti diciamo da quello delle poste a quella a quello di Aruba a Lena Mirial alle schede eh diciamo il sistema comunque essendo parte eh del ministero comunque proprio del dipartimento le accetta tutte senza problemi però questa è una cosa che deve assolutamente obbligatoriamente avere perché l'accesso si fa solo ed esclusivamente mezzo speed eh noi all'interno della slide il primo esempio che abbiamo portato è quello delle poste perché perché si può fare non solo tramite eh il telefono mettendo la carta di identità digitale eh diciamo quella elettronica scusate dietro al telefono si fa la richiesta o mh molto più semplicemente se non hanno neanche questa possibilità si può fare la prima gestione insieme si compilano i dati anagrafici si prende l'appuntamento con l'ufficio più vicino cinque minuti che l'operatore o l'operatrice dall'altra parte delle poste riconosce che il volontario è lui gli accetta la la richiesta e può tranquillamente fare la la domanda questo non solo velocizza tutta la parte di compilazione anagrafica perché eh tramite il sistema di identità digitale già sarà compilata ma permette anche di andare un po' più spediti su varie ed eventuali procedure in linea generale se lo fanno per questo gli rimane anche peraltro o se già ce l'hanno eh l'identità digitale sicuramente tanto meglio e questo nel caso in cui siano cittadini italiani se invece è un cittadino di un altro paese e quant'altro si fa proprio una richiesta a parte nel senso il sistema è diviso in due voi vedete accedi con speed e accedi con credenziali nel senso tutti quelli che sono cittadini diciamo italiani vanno a sinistra invece appartenenti altri paesi tutti a destra poi la domanda viene gestita sempre nella stessa maniera è solo sulla parte diciamo di come entrare qui abbiamo un piccolo esempio di quello che è la schermata nel senso c'è il progetto i dati delle dichiarazioni i titoli e di esperienze partendo proprio dal progetto nel senso si può fare non solo la ricerca tramite il codice stesso il nome del progetto in questo caso sono facili nel senso perché sono fib per i più fragili o insieme oltre lo sport non ce lo ricordiamo abbiamo difficoltà a trovarlo non c'è nessun problema dai menu a tendina possiamo andare per nazione per regione il vi dico la tipologia ma poi una volta che si mette la regione ti chiederà la provincia e il comune quindi diventa proprio semplice come come gestione farà vedere quello che è l'elenco e si possono mettere in ordine di posti di disponibilità se si vuole cercare specificatamente le sedi con i giovani con minori opportunità o anche la parte diciamo semplicemente di ordine alfabetico una volta che si va a scegliere tra compila da solo tutti i dati del progetto in questo caso e si va alla parte successiva che le dati le dichiarazioni in senso in questa sezione dati e dichiarazioni importante come dicevo prima è se il volontario la volontaria ha un ise più basso di 10.000 lo va ad inserire e va a chiedere quella che è la diamo fa proprio il flag specifico un attimo solo scusate e qui quando lo va ad inserire gli verrà richiesto magari di di allegarlo proprio come come documento nella nell'ultima parte la disponibilità al subentro nel senso magari non vi capiterà mai nel senso cosa vuol dire vuol dire che sulla stessa tipologia di progetto quindi o tipi di più fragili insieme oltre lo sport se non sulla stessa sede territoriale ma magari nel comune vicino comunque poco distante invece risultano disponibili altri posti l'operatore può fare anche questa scelta diciamo magari non vuole cioè gli piace il progetto comunque vuole collaborare con l'ente però magari in quel posto sono finiti allora si fa la disponibilità al subentro e magari se non è faccio un esempio il comune 1 ma sarà il comune 2 come distanza allora va benissimo nel senso che tranquillamente il sistema gestisce automaticamente questa questa richiesta queste sono tutte domande diciamo che alla fine difficilmente vi vi capita che però possono essere dei vi dico dei ganci in più per farla breve al fine di tutto questo molto semplicemente verrà chiesto al volontario la volontaria di compilare una parte diciamo di informazioni in più che possono dare se hanno con loro il curriculum lo possono allegare altrimenti lo porteranno a al colloquio e nella parte delle dichiarazioni possono mettere diciamo se hanno fatto corsi tirocini se hanno certificazioni di lingue estere insomma tutto quello che va va a gran sorpresa a valorizzare quella che è la loro figura qui come dicevo prima di andare a fare domanda nel senso solitamente che tipo di attività si va a svolgere nel senso quindi cosa va a fare effettivamente il volontario in quest'anno dove si trova la sede quali sono gli orari e chi sono le persone con le quali poi si va a lavorare nel senso magari lo staff i responsabili della sede o comunque chi partecipa diciamo alla vita del del volontario questa è la parte come dicevo di titoli ed esperienze nel senso ti chiede sono lavorative formativo di volontariato aver già fatto volontariato ad esempio è uno dei dei punti principali nel senso se la persona che si sta candidando si è già avvicinata diciamo al mondo del volontariato è sempre punti diciamo sempre considerata punti addizionali e come dicevo se al curriculum lo può lo può allegare altrimenti lo porta poi direttamente a al colloquio e anche lì per una pratica gestione interna è sempre meglio nel senso se la persona ha preso appuntamento si è venuto a chiedere domande eh dirgli guarda magari se lo porti se lo mandi per mail o quant'altro ma andiamo tutto e tutto insieme non c'è bisogno insomma di un secondo appuntamento una volta che diventa tutto il sistema verde eh pensato un po' come un semaforo c'è il tasto di presenta la domanda sulla mail che ha chiesto diciamo in fase di ingressamento della domanda o comunque quando si è registrato l'utente magari con con lo speed gli arriverà eh la la ricevuta di attestazione nel senso con proprio il numero la data e l'ora che che attesta diciamo che ha fatto la domanda se non dovesse arrivargli nel senso allora manda proprio la mail specifica per il momento non mi è mai capitato eh questo caso però metti caso che dovesse succedervi insomma è bene sapere che è importante questo perché perché ovviamente se il sistema non ha correttamente ricevuto la domanda magari voi vi salutate siete convinti diciamo di rivederlo da lì a un mese per fargli il colloquio e però per il sistema magari questa domanda non è mai stata inserita eh ovviamente è possibile stamparla eh metti caso che serva come comprova in più e quindi vi aiuta anche diciamo a lasciare qualcosa alla persona con la quale avete appena fatto questa procedura nel caso in cui magari il volontario vuole annullare una domanda vuole farla da un'altra parte o non è più così convinto insomma si può sempre fare consigliamo di farla almeno due o tre giorni prima se vuole cambiare magari la sede questo perché perché eh diciamo entro il 10 il sistema permette sempre di annullare la propria domanda però poi si prende ventiquattro ore quindi un giorno per rimuoverla dal sistema questo cosa vuol dire vuol dire che se il volontario vuole fare la domanda non più magari nella sede uno ma nella sede due o magari su un altro progetto eh similare se toglie la domanda il nove e la rifa il 10 e il sistema non ha ancora processato la rimozione della precedente e il volontario non fa né anni b e quindi eh si trova senza la possibilità di fare la la domanda questa eh come dicevo nel senso che cioè se non vi capita tanto meglio nel caso in cui sia però una possibilità eh sappiate potete tranquillamente dirlo nel senso che si può sempre fare nell'eventualità come la toglie così la può rimettere la domanda datevi sempre un giorno diciamo di di azione per un diciamo un mero motivo tecnico del del sito come dicevo dopo aver completato il candidato riceverà la mail eh può verificare se è stata ricorre se viene visualizzata correttamente dall'ente perché l'ente riceve comunque tutta la mail ed informativa sulle sulle candidature e poi i calendari con i dati dei colloqui verranno pubblicati sul sito dell'ente solitamente si fa una giornata sola o comunque eh tutti insieme per un discorso prettamente gestionare nel senso che vanno comunicate vanno pubblicate comunque come ad esempio è per il bando deve essere tutto pubblico questa tipologia di eh di gestione eh perché perché in parte è gestito come se fosse un un avviso pubblico o comunque una gara e quindi ha anche questa tipologia di di necessità e come dicevamo le prime cose che vi consigliamo in linea generale di andare a a sondare con le persone che volete coinvolgere eh se si sono magari già informate sul progetto quindi che cosa faranno dove lo faranno eh perché può capitare che magari gli piaccia o l'idea o comunque ha visto qualcosa che però poi magari si rende conto che eh ad inizio del servizio non lo convince non non gli va più bene eh quindi magari vediamo insieme quelle che sono le attività con lo stesso volontario eh quello che può essere anche il non compilare la domanda in tutte le sue parti come dicevo per dubbio difficoltà insomma eh si rimane sempre a disposizione anche perché effettivamente perdere la candidatura per un errore tecnico magari un errore di compilazione eh è sempre un peccato e l'ultimo punto invece è proprio fare la domanda all'ultimo momento perché per qualsiasi tipologia di disservizio tecnico o problema insomma eh diventa anche lì perdere la candidatura per non averci pensato magari il giorno prima e i colloqui poi mh verranno gestiti sede per sede nel senso quindi centro territoriale per centro territoriale i criteri di selezione sono gli stessi per tutti quanti ed è basato su centodieci punti di cui cinquanta sono gestiti dal curriculum quindi quello che ha fatto già il il vostro volontario e gli altri sessanta invece sono sulla parte di colloquio vero quindi come risponde a determinate domande quindi se ha letto bene il progetto se si è informato se sa cos'è il servizio civile insomma su questo eh ditemi se siccome è la parte che mi cioè che ci interessa di più diciamo eh vedere insieme se mh avete voi domande o se vi è tutto chiaro eh se volete magari vediamo insieme qualcosa prima di prima poi di lasciarci diciamo e passare magari ai progetti ditemi voi insomma questa è la parte importante è che sia chiaro a voi quello che è tutto l'iter insomma per poterlo non solo raccontare ma anche spiegare poi a chi entra a contatto diretto con con i nuovi volontari guarda ti posso chiedere io anche se non mi vedi forse non so perché non mi funziona la webcam oggi comunque vabbè tranquillo sono francesco dalla calabria ciao e allora volevo chiederti perché poi è la prima volta che partecipo a questo tipo di riunione ehm per quanto riguarda il curriculum per esempio mi dicevi ci sono cinquanta punti come come si gestiscono questi punti del curriculum come sono composti? Ok allora nel senso qua ehm diciamo è come è stato richiesto in prima eh in prima parte sul in diciamo come è stato richiesto l'accreditamento al al dipartimento non mi veniva sta parola e su come è eh diviso sono in parte sui titoli di studio eh quindi che percorso ha fatto eh fino a dove è arrivato la parte di conoscenze linguistiche se ha conoscenze informatiche e un altro sapendo se riesco a vedertelo anche velocemente insieme eh sì ovviamente vengo in soccorso eh del mio collega è eh importante però capire che poi ci sarà una commissione selezionatrice della FIB nazionale quindi diciamo è importante saperlo per per dire ai ragazzi sì caricatelo il curriculum se ce la vede perché aiutate voi stessi in primis a ottenere un punteggio ma non è poi voi delle sedi che diciamo vi dovete preoccupare di fare la griglia perché quello ehm insomma verrà fatto dopo a parte e chi sarà coinvolto riceverà la formazione specifica adeguata eh per fare questo ecco. Sì diciamo la parte che voi andrete a gestire diciamo direttamente è la parte di colloquio frontale nel senso quindi capire e sentire quelle che sono anche le motivazioni che l'hanno portato diciamo a presentarsi insomma che solitamente sono la parte più più rilevante. Scusate però i collovi li abbiamo fatti comunque qui li facciamo tutti in sede. Sì sì infatti diciamo questo sarà poi la commissione che farà. Tra l'albitario e tra comunque tutta quanta l'autentazione che questo vedrà comunque a fare tutti i collovi. Ok ho capito sì. Grazie comunque Francesco per per la domanda. e invece sulla parte diciamo di procedura della domanda stessa o altro ditemi cioè datemi voi feedback insomma se se vi è tutto chiaro se c'è qualcosa che si vuole rivedere. Scusa non non mi si vede neanche me e volevo solo rivedere la pagina quella del colloquio dove c'erano le indicazioni date ai ragazzi insomma su cosa prepararsi ecco. Ok un attimo solo. è possibile. Sì sì è presente apposta diciamo la questa possibilità insomma. E poi è un materiale ci dici tu Antonella magari poi puoi condividere con le sedi no? Assolutamente sì il materiale verrà tutto pubblicato e anzi già una parte è stata pubblicata anche sul nostro sul nostro su Facebook e poi verrà inviata a tutti quindi non vi preoccupate. Ah va bene allora lo posso anche... La riunione è stata registrata no è in fase di registrazione quindi anche questa verrà pubblicata quindi con il nostro voto non ci sono problemi. Ok. Ditemi voi se c'è qualcos'altro che in linea generale volete volete coprire o sul quale avete magari qualche domanda in più nel senso ma altrimenti passerei velocemente a quelle che sono le due schede di progetto insomma che sono quelle che vi dicevo disponibili anche sul sito insomma per riallinearci su quelle che saranno poi le attività specifiche che vanno a fare i volontari. Ok allora ricondivido diciamo per l'ultima volta la parte di schermo vediamo brevemente insieme questo e anche come reperirlo poi sul sul sito così come dicevamo prima per qualsiasi altra domanda questi documenti sono già tutti disponibili. Ah brevemente quello che è la scheda diciamo essenziale come viene chiamata degli elementi essenziali del progetto insieme all'ultrero sport come vedi a parte la durata insomma che l'abbiamo detta più di una volta ha l'obiettivo generale che è quello di perseguire l'inclusione sociale dei minori e giovani tramite l'educazione allo sport proprio come veicolo di promozione della lotta alle discriminazioni di qualsiasi tipologia è ovviamente strettamente legato agli obiettivi che ci siamo raccontati prima per quanto riguarda lo sport l'obiettivo sostenibile che è il nome del programma e vediamo come sono divisi diciamo in alcuni obiettivi obiettivi specifici e sotto poi potete trovare quelli che sono i ruoli le attività degli operatori nel senso sono tutti elencati dettaglio per dettaglio con ad esempio vediamo un attimo insieme questo poi sono entrambi sulla stessa tipologia ogni attività ha i propri punti che sono una descrizione della stessa e poi proprio la specifica un dettaglio maggiore di quelle che saranno le attività come ad esempio qui se si vuole costruire l'offerta formativa per un efficace contrasto alle discriminazioni attraverso lo sport sicuramente si parte dalla collaborazione all'individuazione delle tematiche alla presa in carico alla gestione dei rapporti con gli insegnanti con le scuole e quant'altro quindi questo è un po' per farvi capire come trovate le informazioni le informazioni elencate e ogni diciamo obiettivo alle proprie alle proprie attività segue poi tutto quello che è l'elenco delle sedi di svolgimento come vedete sono tante perché per un totale di 50 post insomma tra 20 e 30 dei progetti e sul come sono divise le ore nel senso sono cinque giorni a settimana si fa il conto del monte ore totale e sulla parte della formazione come vi dicevo ci sono le anche le spiegazioni dei moduli stessi cioè quindi cosa andranno su cosa verranno preparati i volontari e le volontarie che ne parteciperanno quindi è tipo un modulo il nome dello stesso il contenuto dove ovviamente all'inizio è sempre la presentazione dell'ente stesso e l'altro invece è la formazione sui rischi connessi all'impiego degli operatori nei progetti di servizio quindi la parte dei danni e dei rischi e poi ogni progetto ha le proprie specificità qui come vediamo c'è l'elemento educativo soprattutto sui laboratori educativi e sportivi come maggiore focus del programma stesso come veicolo di contrasto alle discriminazioni e invece sull'altro facendo lo stesso lo stesso ragionamento vediamo come invece qui si va sempre a perseguire l'obiettivo sociale dell'inclusione su specificatamente su coloro che si trovano una condizione di fragilità o margini marginalizzazione come quella che abbiamo detto prima qui gli obiettivi specifici sono quelli di promuovere la partecipazione di minori e dei giovani che non solo praticano le attività sportive in ambito scolastico e extra scolastico potenziare il contributo dei centri sportivi quindi diciamo proprio delle vostre sedi e delle scuole dei centri ricreativi nonché anche proprio un aumento della diffusione di una cultura sportiva pienamente inclusiva e su questo diciamo è la federazione italiana bocci diciamo che insegna a noi cosa vuol dire questa parte di pienamente inclusivo abbiamo sotto la descrizione degli obiettivi specifici e delle attività e anche qui vedendo brevemente quella che è la parte di formazione si ha tutta la parte di rappresentazione dell'ente rischi connessi all'impiego al lavoro l'educazione attraverso lo sport lo sport e l'agenda 2030 alcuni sono gli stessi perché perché l'ente che lo propone a gran sorpresa è sempre lo stesso e altri invece differiscono sono poche le differenze strutturali o caratteristiche tra i due moduli formativi i laboratori giovani e lo sport l'organizzazione sportiva in italia quindi una grande videata comunque panoramica dello stesso e si conclude in entrambi sempre sulla parte di comunicazione efficace in ambito educativo e sportivo questo perché perché parte dell'operazione che poi vanno a fare i volontari localmente presso le vostre presso le vostre sedi e anche quella di contribuire ad una promozione efficace diciamo giovane e quindi tutta la parte di strumenti digitali multimediali affinché siano loro stessi che hanno già fatto il percorso di servizio civile a raccontarlo meglio delle loro possibilità anche al di fuori dello stesso e come vi dicevo in realtà era uno dei due dei due link che era presente non solo queste informazioni sono pubbliche quindi volontari le possono anche andare a vedere ma voi stessi potete andarle a trovare e proprio sul sito quindi su seguendo il percorso c'è proprio una sezione della home dedicata al servizio civile universale con proprio scritto il nome del programma che è sport obiettivo sostenibile 2023 con entrambi i progetti a disposizione quindi che a questo per dirvi non mi va di mettervi qua a spiegarlo pezzo a pezzo nel senso perché come sulla parte di slide che vi vengono vi vengono inviate questi documenti non solo sono disponibili per i volontari ma anche voi che avrete la richiesta dei volontari insomma avete modo in maniera di vederle di trovarle non solo sul sito e consiglio che possiamo darvi nel senso che per noi funziona bene e magari stamparne una o due copie da tenere diciamo presso i vostri centri delle vostre sedi affinché il volontario che venga magari a chiedere informazioni abbia qualcosa sul quale poterle leggere magari si leggono insieme o si vedono insomma questo nel caso in cui venga una persona che non ha assolutamente nessuna idea insomma del perché è finita è finita lì e su questo ditemi voi se c'è qualcosa diciamo magari tra le ore i giorni i servizi che non vi è chiaro nel senso altrimenti farei qualche conclusione diciamo finale per chiudere diciamo l'incontro chiedo scusa io avevo un dubbio sono edda dall'abruzzo dimmi tutto quindi la sede diciamo così operativa del del volontario e quella del nel nostro caso del comitato regionale cioè diciamo si sviluppa poi tutta l'attività dei progetti di inclusione eccetera allora diciamo in questo caso nel senso non sapendo specificatamente dove dove sei tu insomma magari va beh questo poi con antonella per capire in generale il discorso vale per qualsiasi regione esatto sì nel senso cioè le sedi di svolgimento sono presenti nel senso come dicevo è una lista abbastanza lunga tipo due tre due pagine diciamo per ogni singolo progetto sono quelle indicate indicate lì e anche con i posti disponibili eh quindi questa è un'informazione che però dicevo al di là della città cioè proprio fisicamente il volontario dove dove opera vediamo insieme se riesco a trovare a trovare indietro se non si riguarda edda eh vabbè così con gli abruzzi e tutto quanto sì però i volontari possono anche essere mandati comunque presso le le società che ah ecco questa era la domanda sì quello che stiamo facendo anche oggi con il servizio digitale sì laddove comunque delle stanno dei problemi hanno bisogno di aiuto noi abbiamo inviato comunque dei volontari che vanno lì e poi non si fuggono naturalmente però comunque possono andare a aiutare le società perfetto quindi potrebbe essere anche il monte ore diciamo così potrebbe essere anche ripartito ehm in modo diciamo diverso quindi mh un tot di ore in comitato un tot nelle società quindi c'è flessibilità in questo senso e l'importante è che il monte totale venga sempre rispettato diciamo quello è l'unica l'unica cosa sulla quale non c'è tipologia di flessibilità chiarissimo grazie mille che ci sia traccia di questi spostamenti che vengono chiamati in missioni invece c'è sempre un foglio dell'olpolo il progetto non è che sa dove sta il volontario perché in caso di ispezione a sorpreso del dipartimento noi dobbiamo sapere dove sta il volontario perché altrimenti diventa difficile grazie mille chiarissimo non ricevendo altre domande sono stato estremamente esplicativo io insomma ho già a parte era era ben chiaro o comunque ben ben fissata e da un po' andando effettivamente a chiudere o comunque eh facendo un riepilogo del totale eh un invito nel senso che eh rinnoviamo è quello di eh impegnarsi non solo personalmente ma anche territorialmente insomma in una promozione attiva eh dei progetti perché perché l'impegno che ci si che ci si mette nel senso comunque nel trovare cinquanta persone su tutto è sicuramente un impegno nel senso però eh qualsiasi azione che noi possiamo fare anche eh nazionalmente o comunque di divulgazione e promozione è eh è sempre qualcosa che solamente viene percepita come calata dall'alto invece in questo caso la la vostra partecipazione attiva sui territori dove voi siete già conosciuti dove avete già la vostra storia dove avete già le vostre reti le vostre società come giustamente eh si è detto ora è sicuramente l'elemento più più importante ed è quello che eh come diceva in apertura diciamo il mio collega la parte del del passaparola eh è importante e su questo ovviamente eh sia con un confronto diretto con con Antonella nonché con la parte diciamo che gestisce la comunicazione eh sono state realizzate diciamo locandine e capacità di diffusione ad hoc sui vari social quindi un invito anche per eh diciamo ulteriormente allargare questa tipologia di di cerchio e non so se eh magari tra Daniele e il mio collega Antonella se eh vogliono chiudere con con qualcosa diciamo di diverso da un invito rinnovato diciamo a ringraziandovi per la partecipazione diciamo a questo impegno che ognuno si prende personalmente intanto grazie vi volevo chiedere anche io una cosa di nuovo Francesco scusami Antonella se ti ho interrotto e praticamente eh essendo che noi abbiamo la sede a Catanzaro del comitato quindi facciamo un esempio che magari può essere di interesse anche a tutti quindi noi dovremmo andare a promuovere con ragazzi che stanno comunque lì vicino ad esempio ieri per esempio mi è arrivata a me una domanda mi ha chiamato un ragazzo mi ha detto che stava facendo domanda aveva difficoltà con la compilazione l'ho aiutato eh a a distanza diciamo poi oggi avete spiegato una parte che era meglio se sapevo ieri ma in qualche modo ci siamo riusciti ehm di Cosenza Cosenza è molto lontana da Catanzaro ma io la domanda io l'ho fatta fare comunque però magari sarà difficile per lui se viene preso viaggiare poi comunque è un'ora e un quarto della macchina insomma non è lo sai bene sono cento chilometri si è andata andata sono andata sì diciamo che il candidato la candidata eh deve essere con San noi diciamo esplicitamente dove è la sede principale di servizio e quel caso è Catanzaro se vuole fare domanda lo stesso da Cosenza lo si facilita gli si fa fare domanda questa cosa ovviamente verrà ridetta in sede di colloquio verrà cioè se c'è un volontario sono capitati volontari che dicono no ma proprio voglio far proprio quel progetto come faccio faccio il pendolare lo faccio diciamo è una responsabilità eh poi del candidato comunque sono sono giovani ma sono adulti autonomi e quindi insomma verrà preso all'inizio di colloquio in termini di valutazione questo incarico però per ora fate fare tutte le domande che mi chiedono va bene eh scusate mh sono Alessandra delle Marche noi quest'anno abbiamo avuto due volontari qui in sede di cui uno eh non residente qui eh nella provincia di Ancona ma nella provincia di Pesaro e noi ci siamo mossi in questo modo nel senso che abbiamo fatto delle ore in con presenza settimanali così come stabilito dal dal bando del servizio civile perché ci sono dieci ore settimanali di con presenza con l'olp e le altre ore lui le ha svolte nella provincia di Pesaro nel presso soprattutto presso una bocciofila e siccome io sono l'operatore locale di progetto il ragazzo mi portava ogni volta ogni giorno e reso conto del lavoro svolto presso la bocciofila cioè un'idea così per è una possibilità ma fatta in maniera così permanente eh l'avremo dovuta eh diciamo scrivere nel progetto e mettere quella sede deve essere come sede secondaria della sede eh attuale quindi diciamo non può essere la regola di tutte le settimane nel caso arrivi l'ispezione questa qua diciamo che eh come abbiamo detto prima c'è la possibilità di utilizzare altre bocciofili altre sedi per completare le ore ma non possono essere dieci e quindici dovrebbe essere almeno il contrario cioè la prevalenza sulla sede principale altrimenti non è più considerata sede principale in caso di ispezione. Ah questo non lo sapevano ma era stato detto. Diamo comunque anche proprio in entrambe le scade di progetto proprio per rimanere anche chiari nel senso eh noi l'abbiamo inserito e messo che il fatto che comunque gli operatori agli operatori volontari sarà anche sarà richiesta anche la disponibilità diciamo a fare questi spostamenti e queste missioni nel senso eh però come giustamente diceva eh il collega vanno un po' a rispecchiare la necessità di guarda nel senso magari dobbiamo organizzare un evento con a stretto giro comunque a stretta collaborazione con una società l'initrofa guarda le cinque ore non dire che le spendi qua in ufficio vicino a me valla a fallare nel senso che è meglio soprattutto perché magari le cose si si gestiscono insomma ok diciamo non mi pare che ci stanno altri dubbi domande eh che al momento che al momento è poi ovviamente se ripensandoci dopo ci avete altri eh altre perplessità o comunque altre cose sulle quali desiderate un confronto insomma cioè o tramite noi o direttamente magari facciamo come focus o riferimento a Antonella insomma eh rispondiamo a tutte quelle che sono le necessità o comunque le domande insomma l'idea e l'obiettivo eh un po' come eh come si era detto prima anche come ha detto anche Francesco nel senso è dare a voi oggi diciamo questa tipologia di strumenti e queste conoscenze affinché si possa dare un aiuto concreto a alle persone insomma che vogliono fare domanda Antonella insomma delle scelte delle parole conclusive anche un po' se gli puoi ridire a tutti gli strumenti che c'è a disposizione anche sia sul sito sia grafici su Facebook su tutti i nostri canali social insomma YouTube e tutto quanto e ecco no mi raccomando cercate di pubblicizzare al massimo perché quest'anno siamo 50 quindi sono tra le 50 ragazzi l'anno scorso 40 quindi insomma cerchiamo di anche per tutte le sedie ecco l'anno scorso è rimasta fuori la sede della campagna che questo non ha fatto nessuno cerchiamo veramente di pubblicizzare al massimo insomma il servizio civile che è importante visto che poi anche sulla RAI c'è stata pubblicizzata sullo sport e tutto quanto insomma cerchiamo di lavorare un po' tutti per qualunque cosa chiamatemi e io ho già eh ieri mi sono collegata a più il dipartimento e già ci sono alcune domande sono totali sette due per la Calabria una per il Tiemonte una per la Sardegna una per Terni per l'Umbra e una per Plotinone quindi insomma cerchiamo di muoverci tutti ma quindi in Calabria ne abbiamo quattro in totale? no e in Calabria adesso ci sono rivistrati due ragazzi ho visto ah perfetto quindi ne mandiamo un po' altro oggetto non mi ricordo se erano quanti erano? eh sì nella locandina che mi hai mandato eh sì Fib per i più fragili insieme oltre allo sport allora abbiamo uno per per insieme allo sport Fib per i più fragili e l'altro è sempre un ragazzo per insieme allo sport vabbè ma comunque domande se ce ne abbiamo è meglio eh? perché poi c'è chi si ritira, chi comunque rinuncia, chi ha dei problemi quindi cerchiamo veramente di pubblicizzare al massimo va bene perché abbiamo già avuto l'esperienza con Fib digital al nord e Fib digital al sud e abbiamo visto che tantissimi ragazzi poi si sono ritirati diciamo che statisticamente per coprire i cinquanta posti servono cento domande allora Antonella se non devi aggiungere altro li salutiamo ok poi anche questo webinar verrà messo a vostra disposizione la registrazione così se c'è qualcosa da tornare le slide, le locandine e tutto quindi siamo a vostra disposizione insomma vi auguriamo un buon impegno di reclutamento per il servizio civile grazie grazie a voi arrivederci grazie, buon lavoro grazie grazie, arrivederci ciao a tutti ciao arrivederci arrivederci a tutti ciao 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 Grazie.